dopo un periodo di caldo anomalo per questo periodo invernale finalmente la perturbazione iniziata con l'epifania ha portato una bella nevicata sulle montagne della nostra provincia la quota neve oltre i mini 500 metri si aggira sui 30 50 centimetri ma il forte vento dai giorni scorsi ha creato degli avvallamenti nevosi che sfiorano il metro e il panorama dei monti più alti dell'alta valnure con questa bella nevicata è ritornato invernale compice la bassa temperatura e il gelido vento la neve si è attaccata ai tronchi e i rambi della faggeta dando vita a creazioni naturali rendendo magico tutto il bosco regalando un'atmosfera silenziosamente ovattata di senare insoliti la neve che si è adattata alla superficie delle cose è sovrana di un regno in continuo mutamento con il vento che adora trasportarlo da un luogo all'altro depositandola fino a cancellare tracce e forme per poi rapirla nuovamente in un continuo gioco di comparse e scomparse in una dimensione in cui tutto appare sospeso ritratto nell'istante esatto in cui il tempo sembra essersi fermato per conservare sotto la neve sia il sonno del bosco ma anche l'arcangelo san raffaele sulle vette del crociglia contempliamo questo paesaggio da fiaba un bel regalo dell'inverno che ama stupire A presto! Alla prossima! Alla prossima! Grazie a tutti